21 marzo 1999, gran derby al Renzo Barbera di Palermo, ossia la favorita. Lo Sport Club Marsala 1912 si encinge ad affrontare il Palermo in un derby storico. La compagine azzurra si presenta in campo, forte delle proprie qualità tecniche, e mette subito in imbarazzo la compagine rosa-nero, cercando di portarsi subito in vantaggio. La partita comunque è molto combattuta e anche il Palermo crea diverse palle-gollo. Il risultato finale terminerà su 1-1 e questa partita verrà ricordata dai tifosi del Marsala come la beffa di Palermo, per come maturò. In queste immagini godetevi il gran derby macchiato dalla prestazione del signor Mazzolendi di Bergamo e Rodighiero di Vicenza. Morales Morales Iscriviti What do you say to taking chances? What do you say to jumping off the edge? Never knowing if there's solid ground alone Or hand to hold or hell to play What do you say? What do you say? And I had my heart beating down But I always come back for more, yeah There's nothing I'd love to pull you up When you're lying down on the floor there So talk to me, talk to me Like lovers do Yeah, walk with me, walk with me Ormai manca poco al termine E dopo un rigore non assegnato al Marsala Per questo fallo evidente su Patrick Evra Ecco che al novantasesimo Ultima azione per il Palermo Ultimo tiro in porta Velletario peraltro Gazzoli blocca il pallone Entra qualche passo dentro la porta E per Mazzolene di Bergamo E Rodighiero di Vicenza Si tratta di Gollo Pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag Grazie.